pronta clinica de banné o bannati questo è il corpo della clinica de banné dica pure sono la signora cunegonda dica pure signora vagabonda no no vagabonda cunegonda questo non è la mensa dei vagabondi signora questa è la clinica de banné lei sta parlando con il cup la mensa dei poveri ha un altro numero sto a parlare con il cup eh si questo è il cup della clinica de banné a ridica ci avrei da prenotar me un tampax no me scusi un tampone perché c'ho paura di essermi presa il covid vuole un talpone ma questo non è un negozio di animali noi non abbiamo talponi questo non è un covo di talponi ah il il talpone ha preso il covid accidenti si è il covid ma noi non curiamo talponi ammalati allora un attimo che chiedo in direzione in questo caso quando posso venire a farne sto tampax ma lei è una pervertita vuole mettere il tampax al talpone si vergogni non urli mica so sorda eh bah arrivederci signora ma lei è una pervertita vuole mettere il